Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video, come sempre un saluto grande da Max ed eccoci qui per una nuova news di Gossip TV che riguarda Grande Fratello VIP, edizione numero 7 che sta piano piano, con molta calma, ma arrivando piano piano alla fine di questa edizione, la settima dove troviamo adesso Oriana e Daniele che sono ormai l'ultima coppia che c'è stata in mezzo a questo Grande Fratello e come Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria, i due non si annoiano mai tra liti, sfuriate, riappacificazioni prima litigano, poi rifanno pace, insomma tutte queste cose qui che sembrano al programma ormai essere normalissime l'influencer venezuelana è la prima concorrente ad arrivare in finale e ovviamente ha festeggiato il grande traguardo l'annuncio infatti è arrivato durante l'ultima puntata in diretta davanti a tutti Sei in finale? È stato il messaggio mostrato in studio Così Oriana Marzoli ha capito di essere la prima finalista e al rientro in casa non sono mancati i momenti di intimità con l'amico speciale Daniele Dal Moro, che però ha sorpreso la Marzoli rifiutandosi di dormire insieme Cosa che, ovviamente, si è sfogata con Milena Miconi Questo si sveglia e manco mi saluta, non mi prende, non mi bacia nemmeno Eppure sono cose che un ragazzo quando sta conoscendo una ragazza fa Poi ieri sera gli ho chiesto di dormire insieme e lui mi ha detto subito No No cosa? Ha detto Oriana parlando di Daniele Dal Moro E proprio un confessionale della Marzoli che parlava del concorrente è stato ascoltato dai telespettatori del reality show Sicuramente frutto di un errore tecnico della regia e dei tecnici dell'audio del reality show condotto da Alfonso Signorini Le parole di Oriana Marzoli sono diventate di dominio pubblico S.I. sente il confessionale di Oriana con il famoso Omar Scrive qualcuno di Twitter a corredo del filmato in cui si sente la voce della concorrente e prima finalista del grande fratello VIP7 Dai no! Veramente? Ragazzi io non ho più forza sinceramente Non capisco più questo ragazzo Dice che quando stavamo giocando a biliardo io gli ho risposto male per la seconda volta Ha detto Oriana Marzoli a uno degli autori che secondo quanto riportato da molti utenti di Twitter si chiamerebbe Omar L'audio è stato chiaramente udito dai telespettatori ma non dagli altri concorrenti del GF VIP7 E infatti in uno dei video pubblicati si sente già ele dire ad Alberto Voglio sentire se riesco ad origliare